Il piano regionale dei trasporti potrà essere un'occasione significativa di rilancio, spiegano i sindacati metalmeccanici, ma bisogna porre un'argine alle delocalizzazioni. Un'argine potrebbe essere quello che quando si attribuiscono commesse pubbliche ci sia dentro il bando delle commesse pubbliche un punteggio superiore a quelle imprese che acquisendo quelle commesse diano garanzia di svilupparle in loco.